Il Fiorino nasce nel 57 a Roccalvegna e la nostra lavorazione si basa prettamente sul latte della Maremma. Abbiamo diverse referenze di prodotti che spaziano dal fresco al semistagionato, allo stagionato, alle riserve. La particolarità dei nostri formaggi è dettata dal fatto che i freschi vengono leggermente trattati. Il resto dei formaggi sono tutti a crosta naturale. Il pezzo forte è il riserva del fondatore, questo prodotto che vediamo. Da poco tempo lo produciamo in due versioni. La versione un anno, classico riserva del fondatore e la versione special che ha 24 mesi. Brava Angela, che insieme a Simone lavorano con passione e con amore questo formaggio che è conosciuto da tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.